Musica Pellet pagato e mai consegnato nel mirino madre e figlio oltre i 220 le vittime del raggiro. Mano incastrata in un'impastatrice, grave infortunio per un'operaia di 50 anni. Occupazione gratuita del suolo pubblico per i locali, il comune è pronto a estendere la proroga fino a dicembre 2021. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. Truffa del pellet pagato e mai consegnato, sono oltre i 220 le vittime cadute nel raggiro. La guardia di finanza di Prato ha chiuso le indagini preliminari, sono stati accusati madre e figlio, avevano una filiale anche in città. Vediamo. Una fornitura di pellet a prezzi concorrenziali con tanto di consegna a domicilio, in realtà mai ricapitata. Con questa lettante offerta madre e figlio originari del Cosentino, avrebbero raggirato e truffato oltre 220 cittadini residenti in Toscana e in altre regioni, servendosi di una società con sede in Calabria e con una seconda filiale a Prato. L'attività illecita è stata ricostruita dalla guardia di finanza di Prato, che in questi giorni ha chiuso le indagini preliminari coordinate dalla procura di Prato. Nel mirino sono finiti due complici, amministratori della società, entrambi con precedenti per ricettazione e truffa. L'uomo era inoltre indagato per fatti simili commessi in precedenza in Lombardia attraverso un'altra società. I fatti contestati risalgono ad alcuni anni fa, quando su diverse testate giornalistiche e sui social network era comparsa la pubblicità dell'offerta fittizia. In molti aderirono all'iniziativa, sottoscrivendo i moduli di acquisto e versando tramite bonifico bancario le somme richieste, senza tuttavia, nella quasi totalità dei casi, ricevere la merce in cambio. L'attenzione degli investigatori si è concentrata sul principale conto corrente utilizzato dall'impresa, sul quale, a fronte di più di mille operazioni in entrata, per un totale di oltre 400 mila euro in soli cinque mesi di operatività, sono corrisposti acquisti di merce per soli 36 mila euro. Il denaro accreditato veniva poi rapidamente prelevato, per finalità diverse da quelle della società, con l'evidente intenzione di svuotare il conto e far perdere le tracce degli introiti illeciti. Nel frattempo la società aveva anche accumulato grossi debiti nei confronti dell'erario, per più di 600 mila euro, oltre ad un'esposizione debitoria di oltre 200 mila euro, per le attività di marketing e pubblicità necessarie ad attirare le vittime. Anche alla luce delle verifiche svolte, il Tribunale di Cosenza ha potuto così dichiarare il fallimento della società. Una donna di 50 anni è rimasta incastrata con una mano negli ingranaggi di un'impassatrice alimentare. È successo ieri sera nello stabilimento produttivo della Food Italia, in via Don Facibeni a Casale. Il 118 è inviato sul posto un'ambulanza e la donna è stata trasportata all'ospedale in codice rosso. Vista la gravità delle lesioni riportate dalla donna, è stato disposto il suo trasferimento al Policlinico di Modena. Dell'accaduto è stato informato il Dipartimento Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro dell'ASL per gli accertamenti da compiere nell'azienda riguardo all'incidente. La FAICISL Toscana esprime la propria solidarietà alla lavoratrice infortunata e, si legge in una nota, nuovamente condanna il clima di superficialità diffuso in tutta la nazione nei confronti della sicurezza all'interno dei luoghi di lavoro. Occupazione gratuita del suolo pubblico per i locali del centro e fuori dalle mura. La misura potrebbe essere estesa fino a dicembre 2021, ai particolari nel servizio di Marco Manzo. Proroga fino a tutto il 2021 dell'occupazione gratuita di suolo pubblico per i locali che somministrano alimenti e bevande. È la misura che il Comune sta studiando insieme alle categorie economiche per agevolare gli esercenti che molto probabilmente anche per i prossimi mesi autunnali e invernali dovranno fare conti con le misure anticontagio che gioco forza dimezzano la capienza all'interno dei luoghi chiusi. Per questo l'amministrazione è decisa a prolungare fino al termine del prossimo anno le agevolazioni già in vigore ovvero la concessione gratuita di suolo pubblico fino a 90 metri quadri per gli esercizi del centro e fino a 120 metri fuori dalle mura con possibilità di poter sfruttare anche spazi non antistanti all'attività. L'agevolazione riguarderà tavolini e sedie ma non deorse e pedane. È allo studio dell'amministrazione tecnicamente la possibilità di estendere a tutto il 2021 la possibilità di occupare il suolo pubblico per come l'abbiamo fatto nei mesi dell'estate per come l'abbiamo conosciuto nei mesi dell'estate sia nel centro storico che nelle frazioni della nostra città. Una misura molto utilizzata sia in centro storico ma non solo e che ha permesso appunto a tutte le attività di somministrazione di continuare ad operare utilizzando lo spazio pubblico come uno spazio a propria disposizione. Terminerà invece come previsto il 30 settembre la pedonalizzazione di alcune strade e piazze del centro dalle 18.30 a mezzanotte dal giovedì alla domenica. La pedonalizzazione del centro storico si interromperà invece con la fine di settembre però anche su questo vogliamo dire che è stata secondo noi una scelta giusta perché in questo momento il grande afflusso delle persone ha consentito comunque un uso dello spazio del nostro centro storico molto importante e effettivamente ne abbiamo avuto grande riscontro sia da parte delle attività economiche della città che dei frequentatori ovviamente del nostro centro. È stato prorogato fino al 15 ottobre il bando contributi affitto del Comune di Prato. Le domande possono essere presentate esclusivamente tramite il servizio online dedicato sul sito dell'amministrazione comunale entro le ore 13 della data indicata. Tutte le informazioni sono pubblicate appunto sul sito www.comune.prato.it. Solo gli anziani e le persone con comprovate fragilità e senza alcuna rete familiare possono prendere appuntamento telefonico per ricevere aiuto nella compilazione della domanda. Per l'appuntamento occorre chiamare il numero verde 892 2912 negli orari in sovraimpressione. Movida Sicura anche a Montemurlo prendono il via i test sierologici rapidi e gratuiti. Si parte domani. Ce ne parla Lucrezia Sandri. Arrivano anche a Montemurlo i test sierologici rapidi e gratuiti nelle piazze. L'iniziativa fa parte della campagna Movida Sicura promossa dalla regione e coinvolgerà i principali luoghi di socializzazione del territorio. Si parte domani, giovedì 17 settembre, da Piazza Donatori del Sangue a Montemurlo Centro per poi proseguire il 25 settembre in Piazza Mendola a Oste e il 26 settembre in Piazza Aldobini a Bagnolo. I test saranno eseguiti dalle ore 17 alle 20. È stato scelto un orario un po' anticipato rispetto agli orari delle Movida. Ovviamente il comune di Montemurlo non è un comune con numerose iniziative serali o soprattutto notturne e per questo quindi è stato scelto il tardo pomeriggio dalle 17 alle 20. È questo un orario che nelle tre piazze principali del nostro comune consentirà a tanti nostri giovani e a tanti nostri cittadini di verificare quindi con agevolezza e con facilità le loro condizioni. I test potranno essere richiesti da tutti i cittadini maggiorenni. Basta presentarsi con la tessera sanitaria. Chi dovesse risultare positivo dovrà sottoporsi al tampone contattando il numero verde regionale 800-556-060. I cittadini basta che si presentino ai gazebi che allestiremo in tutte e tre le frazioni. Siamo partiti con 500 test. Ora vediamo un po' come andrà il primo appuntamento di domani. Eventualmente poi reperiremo altri test se dovesse essere necessario. Naturalmente con la collaborazione della regione toscana dalla quale è partita questa iniziativa. Ad occuparsi dell'effettuazione dei test ci sarà il sistema di volontariato socio-sanitario del territorio. Circa 50 volontari ogni sera di misericordia, pubblica assistenza e croce d'oro. Domani a partire dalle 19 al Multiplex Omnia Center a Prato Federico Zampaglione presenterà il videoclip del singolo finché ti va a primo assaggio del prossimo progetto discografico dei Tiro Mancino. Dopo la proiezione in anteprima nazionale del videoclip Giancarlo Gisoni di TV Prato intervisterà Federico Zampaglione che sarà inoltre disponibile a rispondere alle domande del pubblico. Presente in sala anche la ballerina protagonista del videoclip Vanessa Guidolin che eseguirà per l'occasione una coreografia. L'ingresso è libero ed è vivamente consigliata la prenotazione scrivendo a segreteria chiocciola geometticinema.com Passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del Consorzio Lama. Buongiorno, come è possibile osservare dalle immagini del satellite ancora alta pressione su buona parte dell'Europa centro-occidentale mentre una perturbazione interessa il sud della penisola italiana. Per quanto riguarda la nostra regione per le prossime ore di oggi mercoledì 16 settembre aumento delle nubi nelle zone dell'interno possibilità di qualche breve isolato rovescio o anche temporale soprattutto tra le province di Arezzo Siena e Grosseto e in Appennino prevalenza di bel tempo lungo la costa dove il mare è calmo poco mosso e i venti sono a tratti moderati di maestrale. Per domani cambia poco, ancora in mattinata prevalenza di bel tempo su tutta la regione con venti da est nel corso del pomeriggio possibilità di qualche rovescio in Appennino e in generale aumento delle nubi in tutte le zone interne. Le temperature sia per oggi che per domani non subiranno variazioni di rilievo massime attorno ai 30-32 gradi. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui. L'informazione di TV Prato torna questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito, arrivederci. Grazie per averci seguito, arrivederci.